No, intanto sto seguendo Bologna-Lazio, non sto seguendo Entella, non mi interessa il risultato di Entella-Brescia perché non ci riguarda come classifica. Francesca, Francesca, scusa, ti interessa la partita della squadra che noi siamo supplenti? C'è una vergogna di Marianne, hai capito o no? C'è che sono Fulvio nella Lazio. È incatenato. Deve perdere la Lazio. Marianne ha riuscito a scatenare subito Fulvio. Infatti sta perdendo 2 a 0 Fulvio. Bene o male? Ha detto 1 a 0.